Il momento di partecipare a questa inaugurazione e di farvi un grande abbraccio, al di là della nazionale che naturalmente gode di tutta la nostra amicizia, stima, Carlo il momento della comunicazione ufficiale che era andata quando ci siamo sentiti al preolimpico, l'ultima partita con tutte le difficoltà, anche questa qualificazione al fotofinici ma bellissimo, poi mi ha detto però voglio dirti che la medaglia d'oro femminile la vinciamo nel 2020 perché queste ragazze crescono, non la vinciamo nel 2016, questo la dice lunga su come deve essere secondo me un presidente che continua a dare un grande stimolo a questa nazionale di ragazzine nel senso bello del termine, di con alcune persone di esperienza ma con un grande futuro davanti e naturalmente la squadra maschile e tutte le altre nazionali, oggi abbiamo fatto una discussione prima su qual è la nazionale migliore femminile o maschile, il bici, tutte le cose che sappiamo, però c'è un punto politico, non vi spaventate, punto politico con la P maiuscola che vorrei toccare. La gratitudine che ha espresso Giovanni Malagò a nome del Comitato Olimpico Nazionale è sacrosanta e parte dai risultati del movimento del volley in questo paese. Io appartengo, io non ho fatto in tempo a vedere lo scudetto a Firenze nel me cos'era? 74? 73? La ruine cos'era? 70? Secondo me la ruine era abbattuto in finale una squadra di Parma, i ferroviari di Parma, secondo me è 73-74, io ancora non ero neanche nato, quindi nella mia città non ho visto crescere un movimento da serie A ma ho visto l'entusiasmo delle bambine e dei bambini nelle palestre, delle bambine e dei bambini nelle giovanili, delle famiglie quando c'era la World League o le organizzazioni meravigliose dei campionati vari che abbiamo, delle partite internazionali. E allora se Giovanni Malagò vi dice grazie per i risultati della palla a volo, la mia generazione è cresciuta di fatto a livello sportivo con Velasco che diceva lo schiacciatore risolve l'alzata, questo è il suo compito, non commenta l'alzata, risolve l'alzata. Noi siamo cresciuti con quegli anni lì che erano anni in cui la palla a volo acquisiva quasi un valore filosofico nelle discussioni che venivano fatte a scuola, c'è un punto politico che prescinde dai risultati nazionali e internazionali che sono pure evidenti e dei quali ti rendiamo merito. Ed è il valore dello sport nei territori e in particolar modo della palla a volo che è lo sport più diffuso di fatto dopo il calcio ed è lo sport che rappresenta la spina dorsale del movimento sportivo sul territorio nelle città. Vi parla l'ex sindaco prima ancora che il presidente del Consiglio dei Ministri. C'è un valore strepitoso oggi politico con la P maiuscola nella presenza sul territorio di migliaia di società sportive i cui dirigenti, talvolta combinano anche qualche casino ma è normale, ma sono animati in straordinaria buona fede da una passione fantastica che non avrà mai un riconoscimento dei risultati, perché può succedere che in 30 anni vi capita il ragazzo buono che fa carriera, ma non è il risultato, non è quello che arriva in a uno, è l'idea che tu fai vivere un movimento e un mondo che è fondamentale. Ora io ci vorrei mettere il carico pesante in questo ragionamento e finire velocemente. Qual è il carico pesante che voglio mettere? Io ritengo che l'Italia debba portare a livello europeo il messaggio che se vogliamo fare un grande investimento di natura educativo, culturale per i prossimi decenni, occorre guardare in modo diverso nella vita delle periferie, allo sport, alla cultura inteso come dialogo e confronto e ai valori profondi che ci uniscono. Non mi sto riferendo, amici giornalisti, alle dinamiche dell'attualità italiana, levatela, parlo di periferie non per parlare delle dinamiche di oggi in Italia come magari qualche giornalista immediatamente immagina. Sto parlando di una grande questione che noi da sei mesi stiamo ponendo al Consiglio europeo, talvolta soli, ma abbiamo bisogno che la prendiate voi questa battaglia, che la facciate voi gli imprenditori, i grandi manager, le realtà sportive, i dirigenti delle varie istituzioni, che è questa. Se vuoi affrontare l'emergenza delle periferie che a Parigi come a Bruxelles produce veri e propri mostri, perché il mostro è colui il quale crescendo in una periferia diventa un fanatico terrorista, diventa un estremista, diventa un combattente. Quelli che hanno fatto gli attentati a Parigi e a Bruxelles sono nati e cresciuti nelle periferie delle città. Se tu vuoi combattere una grande sfida educativa e culturale devi fare un grande investimento in sicurezza, più telecamere, più pulizia, più polizia, più presenza delle forze dell'ordine, giustissimo. Ma poi devi portare la vita nelle periferie e nelle nostre città. E la vita non la portano i politici, non la portano il gruppo dirigente, la porta dal basso un movimento straordinario per il quale lo sport diventa una cosa fantastica, perché è il tentativo di mettersi in gioco. Ecco perché io sono qui come Presidente del Consiglio. Io non sono qui a dire bella operazione che ha fatto Magri, risparmia 400 mila euro l'anno, è importante, spending review, vero. Ma questo è un problema che affrontate voi. Io sono contento e spero che i 400 mila euro che avanzino vadano come sono certo che andranno a sempre di più favorire il movimento del volley a livello nazionale. Sono qui non per dirvi che bella sede, sono qui per dirvi una cosa diversa. L'Italia dei prossimi vent'anni dovrà investire con un approccio molto più forte e determinato sullo sport, visto come grande risposta culturale, non come giochino per addetti ai lavori. Cioè, e finisco, lo sport non è quel mondo a parte che magari i politici cercano di inseguire perché si prendono un sacco di voti di preferenza, che magari i politici cercano di accarezzare perché quando c'è una vittoria c'è tanta visibilità. Lo sport è una parte della risposta culturale alla crisi educativa che attanaglia l'Europa. Vorrei che questo fosse il punto sul quale riconosco alla pallavolo italiana, alla sua diffusione, alla sua bellezza e alla sua straordinaria capacità di tenere insieme ragazzi e ragazze. Io non dico niente di particolare, ma ieri ho accompagnato, diciamo questi giorni, ho accompagnato mio figlio a scuola per uno degli ultimi giorni di scuola, mi fa, oh c'è uno nella classe sopra che boccia. Che me frega, mi dispiace. Fondamentale. Te babbo non mi capisci. Noi il prossimo anno si vince il torneo di pallavolo. È bravissimo a pallavolo. È l'idea che la pallavolo... No, beh, che c'entra? Può anche bocciare. Io in Malagò, ti andavi bene a scuola Giovanni? Sì. Io insomma, meno. Vabbè, capito. Però in compenso è una schiappa a livello sportivo. Voi sapete qual è la grande... se tu sai giocare a calcio, giochi a calcio. Se non sai giocare a calcio fai l'arbitro di calcio. E io ho fatto l'arbitro di calcio. Se poi non sai fare neanche l'arbitro di calcio fai politica. Questa è la... infatti il mio percorso, come dico sempre al mio amico Gianluca Rocchi, che è arbitro, era il numero uno della sezione, chi ha fatto carriera è lui che è diventato arbitro internazionale, non io che sono diventato presidente del Consiglio. Bene, ho finito. Il tema... che ridete, la verità, lasciate stare Lotti perché... sì, Lotti non è capace neanche di giocare a calcio, per cui il problema non si pone. Finisco. Allora, il governo della Repubblica riconosce nel volley e nella pallavolo non soltanto un grande movimento importante, bello, interessante, ma un pezzo della sfida culturale ed educativa dei prossimi vent'anni. Poi se vinciamo le Olimpiadi è meglio, ma nel frattempo questa sfida la vinceremo lo stesso. Viva la pallavolo italiano, viva l'Italia e viva anche il CONI. vai, che almeno ce lo mettiamo lì, che va sempre bene.